Buongiorno bambini, sono Caterina, vi leggo una favola dei fratelli Grimm, Nannino e Gita. Vicino ad una foresta viveva un povero spaccalegna, che aveva così poco lavoro da non saper come portare tutti i giorni un pezzo di pane alla moglie e ai suoi due bambini, Nannino e Gita. Venne il tempo che furono proprio ridotti a patir la fame senza aver dove cercare aiuto. Una notte che il povero uomo si rivoltava da un lato e dall'altro e non riusciva a prendere sonno per la gran pena che gli stava in cuore, la moglie gli fece una proposta. Non c'è che un modo per tirare avanti un altro po' di tempo, marito mio? Quale, moglie mia? Domattina va al bosco e prenditi i bambini con te. Da ognuno un tozzo di pane e conducili proprio in mezzo, dove il bosco è più fitto. Accendi una fiammata e lasciani lì. Noi non li possiamo più campare. Ah, questo non lo faccio davvero, poveri piccini. Io che sono il loro babbo dovrei portarli nel bosco e lasciarli divorare dalle bestie feroci. Mai e poi mai! Il buon padre non voleva, ma la moglie a ribattere che così non potevano andare avanti, che se tenevano i bambini sarebbero tutti morti di fame, tutti e quattro insieme. Alla fine il marito dov'è cedere e prometterle di fare a modo suo. I due piccini non avevano ancora preso sonno perché la fame rodeva allo stomachino e udirono tutti. La bimba, nascosto il capo sotto le coperte, piangeva dicendo al fratello «Addio, povera Ghita, è finita per te, aiuto!» Ma nannino si dava a consolarla e a prometterle che a salvare sé e la sorellina avrebbe pensato lui. Infatti, appena i genitori si furono addormentati, egli si infilò il vestitino piano, 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 senza far rumore e zitto e chiotto sguscio fuori dalla stanza, all'aperto. La luna brillava e sassolini che erano stesi davanti alla capanna scintillavano come tante monete. Nannino li raccattò a manciate e se ne empì le tasche, poi rientrò in casa e a letto dicendo alla bimba che potevano dormire tranquilli e si addormentarono. L'indomani, prima già che si alzasse il sole, venne la mamma e gli svegliò «So, bambini, bisogna andare a fare la legna stamani, prendete questi due pezzetti di pane e serbateli per mezzogiorno, quando avrete camminato e la fame dirà davvero!» La ghita si tenne tutto il pane sotto il grembiulino, che il fratello aveva le tasche piene di pietruzze e si avviarono insieme col babbo e la mamma nel bosco. Quando ebbero fatto un tratto di strada, Nannino si voltò e parve guardare la capanna che ancora appariva laggiù in fondo al sentiero. «Che cosa guardi, Nannino, e perché ti fermi?» gli domandò il padre. «Babbo», rispose il bambino, «sul tetto c'è il mio gattino bianco che mi vuol dire addio!» «Che grullo!» interruppe la donna. «È il sole nascente che si affaccia sopra il camino e Nanni lo piglia per un gatto bianco!» Ma il bambino non voleva vedere la capanna, voleva vedere l'asseminata delle pietruzze che aveva fatto lungo la via. Quando furono in mezzo alla selva, il padre die un sospirone e disse «Bambini, fate un mucchio di fascine che voglio accendere una bella fiammata, fa freddo!» Nannino e Chitta ubbidirono. Il fuoco fu acceso e quando la fiamma fu bella alta, la donna disse «Noi andiamo a tagliare alcune piante e voi altre fate un sonno qui accanto al fuoco finché noi vi veniamo a prendere!» Nannino e Gitta stettero a scaldarsi fino a mezzogiorno e poi, tristi e soli, mangiarono in silenzio il loro bocconcino di pan secco ma non credevano ancora ad essere stati abbandonati perché udivano, a quando, a quando, i colpidascia nel bosco come se il babbo abbattesse piante e spaccasse ceppi. Invece, egli, nell'andarsene, aveva attaccato a un ramo l'arnese che d'ondolante al vento batteva contro l'albero e faceva il rumore che li illudeva. Quando fu notte, e capirono purtroppo che nessuno ormai tornava a riprenderli, Gitta si mise a piangere, ma il fratello la consolava dicendole che si avesse ancora avuto un po' di pazienza ed aspettasse che si alzasse la luna. La luna sorse e come fu alta e nannino vide che spandeva il suo candore sul bosco e per tutti i sentieri prese per mano la sorellina sbigottita e le fece animo. Su, su, non vedi, Gitta, come brillano questi sassolini? Gitta, dai! Gitta attraverso le lacrime li guardava. Dai, paiono soldi battuti ora alla zecca, riprendeva il bambino. Mentre la bambina sbarrava gli occhi e guardava quel luccichio senza intendere perché dovesse consolarsi. Vieni con me e vedrai che ritroveremo la strada di casa. In silenzio, facendo un passo dopo l'altro, camminarono quanta fu lunga la notte e quando il sole mattutino tornò ad affacciarsi sopra il camino della capanna, il primo raggio salutò quei due piccini che arrivavano allora dal bosco. Il babbo se li abbracciò e provò una gran gioia nel ritrovarli. La donna finse di rallegrarsi, ma in cuore formò un altro disegno malvagio. Passò un poco di tempo e tornarono nuovi giorni di squallore in cui in bocca non entrava un briciolo per spavarsi. Anche questa volta la falsa madre aspettò che i bimbi fossero a letto e quando li credè addormentati disse al marito «Siamo da capo, in casa non c'è più pane, questi moccioni hanno ritrovato la strada perché tu non li hai voluti portare in fondo al bosco. Domattina rimenaceli e fa che non possano più trovare uscita. Se ci ricascano sulle spalle questi due mangiapani moriremo di fame tutti quanti». Il buon uomo a quelle parole si sentiva schiantare il cuore. «Fra sé e sé» diceva «Avrai più caro che quando c'è un tozzo di pane tu lo spartissi con loro fino all'ultimo minuzzolo. Mangiato insieme coi tuoi figliuoli ti parrebbe più buono. Invece non ebbe il coraggio di contraddire la moglie e non aprì bocca». I bambini intanto non avevano perso una parola di quando la mamma aveva detto e Nannino anche questa volta si alzò piano piano per andare a raccattare Sassolini ma quando fu per aprire la porta la trovò chiusa a paletto e gli toccò rientrare a letto senza aver fatto la piccola provvista che li doveva salvare. Nannino a riboltarsi giù accanto alla bambina «Sta quieta sorellina mia, dormi, il Dio ci penserà a lui!» E fidenti nella provvidenza i due piccini si addormentarono. Alla mattina, prestissimo, furono svegliati ed ebbero un seccherello di pane ancora più piccolo dell'altra volta e se ne andarono via dietro al babbo e alla mamma. Cammin facendo, Nannino, che non aveva pietruzze, si sbriciolava in tasca il pane e seminava i minuzzoli per la via. Ogni tanto il padre lo chiamava perché lo vedeva rimanere addietro. «Che fai?» gli diceva. «Ma perché ti fermi e ti volti a guardare?» «Guardo sul tetto di casa perché c'è il mio piccioncino che mi vuole dire addio!» «Che grullo!» gli rispondeva la donna. «Quel che vedi là in cima non è il tuo colombo, è il sole nascente che fa capolino sopra il camino!» Nannino però non si turbava, sbriciolava tutto il suo pane lo seminava in terra per ritrovare la strada di casa. Giunti in mezzo alla selva, la mamma li prese per la mano e li condusse in un fitto d'alberi e di siepi dove nessuno di loro era penetrato mai. Poi accese il fuoco, disse loro che stessero lì buoni ad aspettarla e se ne andò. Aspetta, aspetta, aspetta. Intanto fecero a mezzo del pane della ghita e nessuno veniva. scese la sera, calò la notte e nessuno venne a riprenderli. La bambina piangeva e il fratello le faceva coraggio come poteva. La esortava ad aver pazienza e aspettare che si alzasse la luna. La luna spuntò bella e bianca come ogni notte e Nannino si riprese per mano la ghita e via insieme si avviarono. Ma quando si misero a cercare i bricioli di pane non ne trovarono neppure uno che tutti gli uccellini del bosco se gli erano beccati. Come faremo? Come faremo? gridava la bimba mentre zampettava a piedi scalzi accanto al fratello. Avanti dai! le rispondeva il fratello che credeva di essere un omino e si sentiva sicuro del fatto suo. La strada la ritroveremo. Vedrai! Poveri bimbi! Invece di camminare nella direzione della capanna giravano per viuzze tortuose e si allontanavano sempre di più. Camminarono tutta la notte e tutto il giorno di poi finché stanchi, sfiniti, si addormentarono. Quando ebbero fatto un sonnellino all'alba si svegliarono e si misero a cercare qualche cosa da mangiare. gira, 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 trovarono due bacole e si contentarono di quelle. Andavano sempre più avanti e quanto più cammino facevano più si internavano in quel bosco senza poterne uscire. dopo due giorni finalmente si trovarono davanti ad una casina piccina piccina che era fatta di pane aveva il tetto di torta e le finestre di zucchero fin. Mettiamoci a sedere, disse il bimbo e mangiamo finché ci sentiamo pieni. Io assaggerò il tetto tu rosica la finestra che sarà più dolce. Così fecero. Quando la ghita ebbe arrottato i dentini a quella bella finestrella bianca che brillava al sole una voce di dentro cominciò a dire Rodi, rodi topolina chi è che rode la casina? I bimbi rispondevano è il vento venticello è il celeste bambinello e seguitavano a mangiare. Ghita ruppe un bel pezzetto di zucchero e nannino portò via una buona fetta di torta dal tetto ma ad un tratto la porta si aprì e una vecchia venne fuori tentennoni e strascicando. I bambini ebbero tanta paura che si lasciarono cadere tutto di mano la vecchia però dondolando il capo prese a dire Oh che bei piccini da dove siete sbucati? Venite in casa mia ve ne troverete bene. Poi se li prese per la mano li condusse in casa. Subito fu portato in tavola tanta buona roba latte, frittata, dolce, mele e noci e poi furono preparati due bei lettini in cui i due bimbi si adagiarono allungandosi beati come fossero stati in paradiso. Quella vecchia però era una strega cattiva che attirava i bambini con ghiottonierie e con lusinghe e quella casina altro non era che una trappola con la quale gli acchiappava per poi cuocersene e farsene una scorpacciata. Ci si può immaginare se fosse felice quando il caso le portò quei due bimbetti che nonostante la fame e la miseria erano freschi come bocconcini di rosa. Alla mattina di poi già prima che fossero svegliati essa andò a guardarli ed accarezzarli dicendo Che buon borbottino sarete per me! Prese Nannino in collo lo portò in una piccola stalla e ve lo rinchiuse sicché quando il bimbo si svegliò si vide intorno ad un cancello e gli parve d'essere un galletto nella stia. Come il fratello fu sistemato la vecchia chiamò la sorellina con brutta maniera. Su alzati! Ne diceva scotendola poltronaccia! Vai in cucina tingi l'acqua prepara qualcosa da mangiare appena sarà ingrassato ben bene il tuo fratello lo mangerò per ora tu pensa di impippiarlo va e di là nella stalla! La ghita ebbe un grande spavento pianse e scongiurò ma fu tutto inutile bisogna che facesse quanto la vecchina ordinava. Tutti i giorni quella povera bambina doveva fare buoni piatti per Nannino per lei non restavano che gusci dei gamberi ad ogni giorno la vecchia andava a vedere il bimbo nella stalla lo guardava da tutte le parti come avrebbe fatto con un porcellino e poi gli diceva Nannino allunga il ditino perché senta se sei grasso abbastanza! Ma la vecchia che era anche mezza cieca e il bimbo furbacchiotto serbava qualche ossicino di pollo e lo metteva fuori dalle stecche per farle credere che era il suo ditino sicché quella meravigliando che il ragazzo non facesse carne con tutto il vitto buono che essa gli dava se ne tornava via brontolando e lamentandosi della spesa inutile però quando fu passato un mese disse una sera alla vecchia la ghita svelta porta dell'acqua e mettine sul fuoco un bel paiolo che domani sia grasso secco voglio mangiarne a Nannino lesso e vada di mettere da parte il grasso perché dobbiamo fare anche un bel fritto la ghita col cuore oppresso tirò sull'acqua per lessare il fratello e la mattina di poi si dove alzare prestissimo accendere il fuoco ed appendere il paiolo alla catena sta bene attenta e andava dicendo intanto la vecchia ora fa fuoco nel forno perché ci deve andare dentro il pane a cuocere l'altra mentre si affacendava per la cucina piangeva calde lacrime sudava sangue per l'angoscia e diceva fra sé quanto sarebbe stato meglio se ci avessero divorato le bestie nel bosco almeno sarei morta con Nannino anch'io e non avrei potuto preparargli l'acqua bollente né metterlo in pentola dio mio pensa tu a noi altri poveri bambini ad un tratto chiamò la vecchia presto ghita corri qui al forno aiutami appena la bimba si fu affacciata alla stanza guardala dentro dimmi se il pane è tostato io non ho gli occhi buoni lo sai provati e se mai tu pure non dovessi vedere nulla monta sull'asse io ti spingo in fondo così puoi girare col tuo comodo e fare le cose per benino perché fra sé macchinava di chiudervela dentro quando ormai vi fosse e di mangiarsi anche lei bella come un biscottino la bambina la bambina aveva imparato a difendersi dalla malvagità della gente rispose subito non ho capito quello che mi hai detto fammi vedere tu come si fa che dopo lo farò anch'io quando la vecchia fu sull'asse da pane ella la spinse nel forno chiuse lo sportello e se ne fuggì con nannino presto presto fratellino gli diceva mentre apriva lo steccato siamo salvi andiamo nannino salto fuori come un uccellino dalla gabbia e quando si abbracciarono piansero per la gioia ma non c'era da perdere tempo in fretta raccossero quanti brillanti e perle trovarono in quella casina piccina piccina che era fatta di pane ed aveva il tetto di torta e le finestre di zucchero e via a tasche piene se la dettero a gambe cammina cammina arrivarono ad un grande fiume e non sapevano come fare a traghettarlo vide la ghita una bella natrina bianca che se la nuotava in su e in giù e la chiamò cara natrina ci prenderesti sulla schiena per farci passare dall'altra parte appena udì chiamarsi dalla bimba la bestiola venne subito da lei nuotando lesta lesta prima traghettò la ghita dopo tornò a prendere anche nannino appena furono sull'altra la riva trovarono la buona strada che li condusse a casa il babbo che non aveva avuto un'ora di bene da che gli erano stati tolti i suoi figliuoli fece loro una gran festa pianse e si inghiozzò di gioia la mamma era morta e potevano starsene tutti tranquilli ora nella capanna c'erano entrate le ricchezze e la miseria aveva sloggiato forse per sempre ok ok ok